Oroscopo del giorno. Domenica 9 giugno 2024. Ariete. Amore. Finalmente sarà domenica e a livello amoroso potrebbero esserci tante intuizioni sui rapporti, le emozioni e non solo. Le storie potrebbero diventare più forti, ma sicuramente saranno da alimentare. Lavoro. Se lavorerete oggi potrete mettere originalità nei vostri progetti. Toro. Amore. Se le cose con il partner proseguono bene, questa sarà una giornata in cui le emozioni saranno stabili ma piacevoli. Lo stesso varrà pure per chi non è ancora impegnato in una relazione. Lavoro. Saturno vi spingerà verso delle nuove occasioni lavorative. Gemelli. Amore. Qualcosa in amore forse non va al massimo, potrebbe essere il caso di fare una scelta all'interno del rapporto. Nemmeno per chi è single questa sarà una domenica tra le più semplici. Lavoro. Un momento in cui per determinati progetti professionali sarà veramente importante essere concentrati e motivati. Cancro. Amore. Una venere in splendido aspetto vi attende durante la giornata odierna. Questo sarà un giorno in cui le questioni amorose saranno favorite e i rapporti potrebbero farsi sempre più importanti. Lavoro. Inizierete a guardare al domani lavorativo, pensando a cosa potete cominciare a progettare. Leone. Amore. Con il vostro partner ci sarà un rapporto più forte e anche voi vi sentirete più sicuri. I single potranno sperare in una nuova connessione con qualcuno. Lavoro. Anche se questa sarà una domenica e molti saranno liberi, chi sarà occupato a lavoro potrà sperare in un crescendo di novità e risultati. Vergine. Amore. Questa sarà una giornata che potrebbe farvi vivere le emozioni con leggerezza. I sentimenti non mancheranno e potrebbero riguardare anche chi è single. I cuori liberi potrebbero fare incontri nonostante qualche piccolo intoppo. Lavoro. La domenica potrebbe essere di riposo mentre altri cercheranno di avvicinarsi a un nuovo progetto. Bilancia. Amore. Persino i cuori più solitari oggi potrebbero fare una conoscenza importante. Chi ha un partner al proprio fianco, invece, potrebbe vivere le emozioni e renderle più speciali. Lavoro. Occasioni possibili per chi avrà la domenica impegnata sul posto di lavoro. Scorpione. Amore. Le stelle, luna inclusa, vi porteranno a essere al centro dell'attenzione. Questo aspetto potrebbe riguardare soprattutto i single. Qualcuno potrebbe essere colpito dalla vostra persona. Lavoro. Se siete liberi oggi potrete riposare. Certo è che in tanti continueranno a pensare al proprio lavoro e a ciò che desiderano da esso. Sagittario. Amore. Sentimenti al top. Di sicuro le emozioni non potranno mancare oggi e le storie d'amore avranno un aspetto importante. I single potrebbero fare una conoscenza che potrebbe rivelarsi molto solida. Lavoro. Gli astri saranno in aspetto favorevole e se lavorerete durante questa giornata potrebbe essere fondamentale la creatività. Capricorno. Amore. L'amore potrebbe essere la chiave e questo sarà un giorno in cui riuscirete ad avere un fascino speciale. Chi è single non avrà troppe difficoltà a incontrare una persona nuova. Lavoro. Chi lavorerà durante questa domenica potrà contare su delle opportunità nuove oltre che interessanti. Acquario. Amore. Per molti di voi saranno delle ore di riflessione. Questo sarà un momento che servirà per capire di più sui rapporti che avete all'attivo, siano essi relazioni o conoscenze di nuova data. Lavoro. Se lavorerete oggi avrete a che fare con buone opportunità ed ottimi risultati. Pesci. Amore. Sarà una giornata di emozioni da vivere e da condividere con la persona che avete al vostro fianco. Potete aspettarvi delle situazioni piacevoli in amore. Lavoro. La domenica lavorativa sarà tutta da organizzare se avete degli impegni. a presto. a presto.